Ehi, Jake, dove stai andando? Wow, ciao, bello, come stai? Salve, salve. Vedo che hai conosciuto Jake. Già, è un tipo asocevole. Lo so, Catherine Wright, vivo al piano di sopra. Ciao, sono Lisa Hines, piano di sotto. Oh, scusami, a lui piace ficcare il suo musetto dappertutto, vero Jake? Beh, probabilmente ha sentito il profumo di amici. Amici? Sì. Oh, santo cielo, Jake, guarda, guardali, sono veramente adorabili. Sì, infatti, volevo prenderne uno, poi ho visto la cucciolata, erano otto. Otto cuccioli? Sì, loro tre erano i più uniti. Ti presento Mario, Luigi e Pasquale. Ciao. Non ho avuto il coraggio di separarli. Ciao, Jake. Comunque, mi ha chiamata la scorsa settimana e ora sono fidanzati. Ciao. Congratulazioni. Michael è proprio un bravo ragazzo. Passeranno il Natale con i suoi genitori in Aida o quindi... Per me, Rod, mio marito, sarà il nostro primo Natale lontani da casa. Beh, per me, la mia casa è... La mia casa è qui, ora. Quindi passerai qui le feste di Natale? Sì, sì. Mia madre è spesso in viaggio, ora si trova in Spagna per qualche mese. Bello, e che cosa fa lì? Da quel poco che so, si sta divertendo alla grande. E tuo padre? Lui è venuto a mancare quando ero al college. Oh, mi dispiace. Non preoccuparti, è successo tempo fa.